Bosch inaugura in Italia un nuovo programma di corsi di guida sicura sul circuito di Franciacorta a Castrezzato, in provincia di Brescia, che prevedono l'insegnamento di teoria e pratica al volante della propria auto. Sono progettati per fornire la conoscenza approfondita dei nuovi sistemi elettronici di sicurezza, su come si usano al meglio e sulle loro incredibili potenzialità. Offerti ai collaboratori del gruppo tedesco e ai dipendenti delle aziende che lavorano con Bosch, in un momento successivo saranno destinati anche ai privati, che utilizzano l'auto come strumento di lavoro. Il nostro obiettivo futuro è quello di estendere questa Academy della Guida Sicura anche ai neopatentati, che hanno più bisogno di certezze rispetto ai guidatori più esperti, dice Roberto Zecchino, responsabile Bosch Risorse Umane per l'Europa del Sud, coadiuvato da Sabrina Castellana, responsabile Bosch Tech, acronimo di Training, Esperienza, Competenza. Attraverso i corsi di guida realizzati dall'equipe guidata da Gian Maria Gabbiani, la sicurezza viene migliorata attraverso un percorso formativo, che porta a comprendere le reali interazioni uomo-auto-ambiente, insegnando a individuare i pericoli e ridurre al minimo i rischi. Con Bosch Tech abbiamo il corso di guida sicura in pista, quindi lavoriamo su tutte quelle che sono le varie gradazioni sul tema guida, calcolando che per strada ci si sposta, in pista puoi divertirti. Chi può venire ai corsi di guida? Tutti quelli che sono i possessori di patenti, con una vettura marciante, anche elettrica, quindi non facciamo distinzione tra ibrido o benzina. È ovvio che la vettura deve essere in uno stato utile e sicuro in termini di pressione gomme, battistrada, tutta la parte tecnica ovviamente deve funzionare e tutto il resto ci pensiamo noi. Il corso, che registra tra gli istruttori, maestri di guida di chiara fama come Giorgio Francia, si effettua sull'auto dell'allievo e si divide tra una parte teorica, posizione di guida, tecniche di sterzata, dinamica del veicolo e trasferimenti di carico, sistemi di sicurezza attiva e passiva, guida eco-compatibile e una parte pratica, realizzata in circuito e su aree attrezzate. La cooperazione tra il Gabbiani e Bosch scende anche in pista su una Volkswagen Golf GTI da 350 cavalli, preparata per gareggiare nell'edizione 2019 del campionato italiano TCR DSG Endurance che ha preso il via il 5 aprile scorso. Al volante con Gabbiani ci sarà Andrea Larini.